...dissugno nostra? a casa mia cazzo di rigore che mi hanno spintonato come un bastardo è un cazzo esè i bastardi che mi spintonavano io quello lo so lo fa cagliando a lui poi così poi ci vuoi che schifo tutto un fallo una roba vergognosa si si è vergognosa tutto un fallo tutto un faranocchio ma giusto guarda che roba che salvata è dai che campione